La procura di Taranto indaga per omicidio colposo sul decesso di un 19enne dopo la denuncia dei genitori tramite lo studio 3A e l'avvocato Daniele Delia. Il PM Mariano Buccoliero è iscritto nel registro degli indagati 12 medici e fissato per giovedì prossimo l'autopsia al giovane dopo un episodio di formicolio. Era stata riscontrata una dissezione della carotide e dopo l'esito di quell'esame era tornato ancora in ospedale con gli stessi sintomi, ma, spiegano i genitori nell'esposto, l'avevano sempre rimandato a casa con una cura farmacologica lo scorso giovedì notte però dall'ospedale Santissima Annunziata. Non è più uscito vivo. Il 19enne, che non soffriva di alcuna patologia, il 30 agosto era stato accompagnato d'urgenza il pronto soccorso, avendo accusato, dopo essersi alzato dal letto, dei formicolii alle braccia e al volto. Il neurologo lo aveva dimesso prescrivendogli una risonanza magnetica che ha fatto emergere un difetto di flusso dell'arteria carotide come da probabile dissezione. La vicenda si è conclusa giovedì scorso, quando il ragazzo ha accusato dolori lancinanti in casa ed è stato trasportato in ospedale. In codice rosso, dopo il ricovero, è stato colto due volte da arresto cardiaco, il secondo dei quali gli è stato fatale.